No vabbè, guardate che roba, in tre passaggi, uno carico una mia fotografia, due gli dico un prompt, aggiungimi degli occhiali rossi da sole, tre aggiungimi anche una bella collanazza d'oro al collo e in pochi clic e una mancina di secondi ottengo questa roba qua fichissima e super realistica. Waiu, ma io quando vi dico che sono innamorato di Ideogram, cioè ma è normale che sono innamorato di Ideogram, guardate cosa si può fare con questa nuova funzionalità del Canvas, è una funzionalità che ormai è stata rilasciata da un paio di settimane ma non ci avevo fatto ancora un video e oggi voglio fare un tutorial super dettagliato. Quando entrate in Ideogram adesso, sulla sinistra esce questo pulsantino che si chiama Canvas, al momento è ancora in beta, se ci cliccate si apre proprio un Canvas, quindi una schermata bianca, uno spazio di lavoro con varie funzionalità qua sulla sinistra, adesso ve le faccio vedere tutte quante. La prima è quella della creazione, quindi possiamo creare un'immagine da qua dentro, esattamente come la creeremo fuori nella schermata principale di Ideogram, ma ce la troviamo nello spazio di lavoro, vi faccio vedere quale è la differenza e perché è importante. Quindi facciamo la classica prova a Zog Riding a Bike, una classica immaginetta che faccio io per le prove, quindi un cane in bicicletta, facciamo, che ne so che la vogliamo, 4 quinti, anzi facciamo la quadrata, facciamo l'immagine quadrata come stile, sì possiamo lasciare il design, il magic prompt sempre on, lasciamo la privata, questa è giusto per fare le prove. E quindi qua parte la generazione di immagini, abbiamo le classiche quattro opzioni che avete visto sempre quando abbiamo utilizzato Ideogram e adesso però ce le troviamo qua dentro. Vi faccio vedere quale è la differenza sul fatto che ce le troviamo qua dentro, aspettiamola prima che vengano completate e vediamo quale ci piace, su quale vogliamo rimanere. Allora, come stile, mi aspettavo esattamente questa qua, perfetto, va bene, qua ce le abbiamo tutte e quattro, la prima cosa che noterete è che adesso possiamo selezionarle. Vedete, siamo proprio dentro una schermata, qua abbiamo la classica manina con la quale uno si sposta in avanti e qua c'è il classico select con il quale posso fare questa roba qua. Cioè, proprio, vedete, com'è dentro un programma di grafica, di design, quindi questo che ne so, non mi piace, lo cancello perché è in bianco e nero, questo non mi piace che è tutto strano, mi tengo questi due e sui quali andrò a lavorare, ok? Vedete, lo ingrandisco, me lo sposto, mi sposto io col mouse, zoom, no? E quindi mi metto a lavorare qua dentro. Qua abbiamo, diciamo, quattro voci importanti che ci interessano. Generate, che l'abbiamo appena utilizzata, remix, che l'abbiamo vista nel tutorial di Ideogram che ho fatto altre volte qua sopra, perché il remix c'è sempre stato. Vediamo Magic Fill ed Extend. Quindi, Extend cosa ci fa? Allora, mi seleziono questo, faccio Extend e mi permette di fare quello che tecnicamente si chiama l'outpainting, quindi posso andare a disegnare qualcosa intorno all'immagine, fuori dalla nostra immagine. Questa è una cosa veramente, veramente figa. Abbiamo visto dei tutorial su come farlo in Mid Journey, come farlo in Chargpt, quindi da lì. Quindi facciamo una prova. Mi vado a prendere questo, dice un... facciamolo così, 16 noni, ci mettiamo un po' di spazio di lato. Ecco qua, lo metto qua, lo ingrandisco un pochino, e quindi adesso io qua posso dire quello che c'è intorno a questa roba qua. Quindi qua facciamo Dark Forest, quindi mi immagino questa foresta oscura, dark. Quindi la cosa potente è che posso andare a fare un'estensione dell'immagine che mi è stata generata da Ideogram, no? Quindi degli elementi extra che Ideogram non ha previsto, anche in un formato extra. Quindi sono partito da una quadrata e qui in questo caso me ne sono andato a fare una in, diciamo, stretta e lunga in orizzontale. Tra l'altro la cosa interessante qual è? È che ci fa una copia di questa immagine. Vedete, quindi se adesso faccio così e la sposto, l'originale ce l'ho. Posso tornarci a lavorare in qualsiasi momento. Ecco qua, abbiamo la nostra Dark Forest, tra l'altro perfetta. Qua abbiamo sempre le quattro opzioni sulle quali possiamo scrollare. Vedete, c'è questo pulsantino qua sotto. Oppure me le vedo qua di latro, proprio normalmente come si farebbe con Ideogram. Quindi vediamo quale mi piace. Direi la numero 2. Forse la numero 2 è quella più precisa. Anche qua la curva è fatta molto bene. Perfetto. Ci teniamo la numero 2. Quindi questo abbiamo usato l'Expand, l'Extend. Ok? Possiamo farlo a destra, a sinistra, sopra, sotto o in tutti i lati. Ma non è solo questo. Possiamo anche fare altro. Vi faccio vedere questo pulsantino, questa funzionata Magic Fill. Qua abbiamo vari modi di selezionare. Mano libera, pennarello, il rettangolo. Allora facciamo il pennarello e facciamo questo pezzo qua, che togliamo questo divieto. Anche perché se ci sta il divieto di andare in bicicletta, il nostro cane si beccherà la multa. Facciamo questa cosa qua. E qua gli scrivo Remove. Ops. Remove the sign. Magic Fill. Quindi sto intervenendo solo nell'area selezionata. Cioè avete capito che ci stiamo lavorando dentro come se fosse Photoshop. Cioè avete capito come se fosse uno strumento proprio di editing delle immagini. Ovviamente con una semplicità devastante. Cioè il bello di questi tool è che ci permettono di fare cose appunto. Che normalmente uno poteva fare solo se era esperto di fotoritocco, di app, di grafica e design, eccetera eccetera. Io che di sta roba ne uso una pippa, lo faccio velocemente dentro Videogram. Vediamo cosa ci ha tirato fuori. Perfetto. Ci ha tolto il nostro bel segno. Qua ci sono le quattro opzioni, come sempre. Qua ho fatto un segno vuoto, qua ho messo un cartello di lato. Direi che l'altra è proprio perfetta perché è quello che volevo io. Come sempre vedete ci ha fatto una copia. Quindi se io volessi, adesso potrei andare a fare anche un'altra cosa. Quindi ho fatto vedere come eliminare una cosa. Adesso vi faccio vedere come possiamo aggiungerla. Quindi faccio Magic Fill, mi faccio il lazzo e dico che qua davanti, quindi vedete sto selezionando proprio qua davanti, faccio Add a light in front of the bike. Quindi in quella zona lì adesso voglio una luce. Ovviamente qua è la seconda domanda, Raffa, perché se stai scrivendo i prompt in inglese, Videogram gestisce anche i prompt in italiano. Ma sapete sempre, in tutti i tool dove si lavora con le immagini, i prompt in inglese funzionano un pochettino meglio. Quindi vi consiglio di usare i prompt in inglese. Se non li sapete fare, ve li traducete di cuccia a GPT. Non mi scrivete nei commenti. Raffa, non conosco l'inglese. Ve li traducete di cuccia a GPT. Siamo nel 2024. Allora, nel frattempo che genera, vi ricordo, like e commento tattico. Fondamentale, lasciate un like e un commento e vi dura pochi secondi, ma mi aiuta a spingere il video e dire all'algoritmo che questo video lo devono vedere più persone possibili. Ecco qua, ci ho messo la nostra bella immagina della lampada, cioè della lampada, della luce. Abbiamo le quattro opzioni, direi che la 3 non mi piace. La 4, vabbè, in realtà la 3 è accesa e la 4 è spenta. Se vogliamo fare l'effetto notte o l'effetto giorno, lasciamolo spenta per il momento. Anche di questa mi ha creato una copia, ovviamente, quindi lo sposto qua sotto. Altra cosa che possiamo fare, quindi abbiamo aggiunto un elemento e eliminato un elemento, possiamo anche andare a modificare un elemento. Quindi facciamo una prova qua. Mi faccio questo Magic Fill, selezione rettangolare, così ve lo fate vedere tutte e tre. Seleziono questo blocco qua e qua cosa gli dico? Qua ci sta un palo e invece del palo qua metterei, che ne so, a bunch of roses. Ci mettiamo dei fiori, delle rose. Vediamo se riesci a farle, anche se ho fatto strette lunghe in alto non va bene, perché la rosa dovrebbe essere un po' più. Però vediamo se riesci a fare comunque un bel mazzo di rose. Quindi fondamentalmente potete modificare cose, eliminare cose, aggiungere cose. Ecco qua, ce l'ha fatto. Non me l'aspettavo, invece ce l'ha fatto. Vediamo le quattro opzioni. Forse, sapete che forse la seconda mi piace più della prima? Sì, mi piace la seconda, ci lascio la seconda. Abbiamo pure la nostra versione con le rose, me lo sposto qua sopra. Vedete che adesso abbiamo proprio un tavolo di lavoro. Infatti questi canvas possono essere rinominati, quindi questo me lo rinomano e lo chiamo Cani in Bicicletta. Ok? E mi sono andato a fare... Ups, non l'ho salvato, scusatemi. Allora, Cani in Bicicletta. Perfetto. Adesso ho il canvas, lo spazio di lavoro sui Cani in Bicicletta. E qua ne posso avere N, quanti voglio, dove sono degli spazi pop di lavoro. Quindi abbiamo visto Generate, che vi crea le immagini. Magic Fill, con il quale potete selezionare poi Rimuovere, Aggiungere, Modificare. Extend, che vi fa l'espansione. Remix lo conoscete perché si trova già dentro il diagram. E di questi quattro, Select è quello che vi permette di selezionare. Hand è quello che vi permette di spostare. Download ovviamente è per scaricare un'immagine, non c'è bisogno che lo dica. Ma c'è anche il pulsante Upload. E qua arriva il bello. Perché tutte queste funzionalità che abbiamo viste, non solo possiamo utilizzarle su cose generate da noi, ma possiamo usarle su cose generate da altri o su immagini caricate da noi. Quindi vi faccio vedere anche queste altre due cose. Ma solo se mettete il like e il commento. Se non l'avete fatto prima, mettetela adesso. Cioè, quanta roba vi faccio vedere qua sopra. Avete capito che potenza questo strumento? Quindi se io torno nella home di Ideogram, mi vado a prendere un'immagine generale da qualcuno. Che ne so, questa qua. Ok? Ci clicco sopra. Adesso qua, nei tre puntini, oltre a tutte le cose che ci sono semplici, c'è anche Edit Canvas. Quindi io ho l'immagine di qualcun altro. Cioè, avete capito che è figata questa cosa? L'immagine di qualcun altro me la porto dentro il Canvas. E a quel punto, una volta che ce l'ho dentro il Canvas, posso usare gli strumenti che ho fatto vedere prima. Quindi il Magic Fill, fare le modifiche, fare le aggiunte, rimuovere delle cose, eccetera, eccetera. Quindi qua, per esempio, potrei mettere... Faccio il Magic Fill, vi faccio il mio bellazzo, faccio questa cosa qua, seleziono qua, e scrivo a clock on the wall. Magic Fill. E qui adesso ci aggiungo un orologio su questo muro. La prima cosa mi è venuta in mente, ovviamente è un esempio stupido, però poi lo usate come volete voi. Quindi adesso non lo sto facendo sulla mia immagine, ma sull'immagine fatta da qualcun altro. L'altra cosa che vi faccio vedere è che possiamo fare anche delle modifiche sulle immagini nostre, quindi caricate, non roba creata dentro Ideogram, caricata. Ah, e poi vi faccio vedere anche il testo, perché pure sul testo se possono fare delle cose incredibili, ve le faccio vedere tra un attimo. Aspettiamo questa generazione. Dovrebbe esserci quasi, è arrivato alla fine. Eccola qua. Cioè abbiamo la nostra bella opzione, vedete l'ha fatta anche un po' sfocata dietro, quindi come se fosse un'immagine scattata nella prima non c'è, nella seconda, la terza, la quarta. Forse la quarta è quella più precisa, mi piace un sacco. Perfetto, lascio questa qua, vedete abbiamo aggiunto questa cosa, non si nota proprio che è stato modificato. Mi crea un nuovo canvas, quindi a questo punto sul canvas vuoto cosa faccio? Faccio upload, questa è un'immagine gratuita che ho preso da internet, da Pexels, me la ingrandisco un pochino, e qua sopra, che è un'immagine, una foto, no? Quindi un'immagine scattata da me, in questo caso no, ma l'ho presa da internet. Posso usare l'extend, il magic fill e così via. Per esempio posso fare il magic fill, ad esempio, che ne so, qua sopra mi faccio una modifica, faccio magic fill, qua mi faccio questa selezione, e qua a terra ci metto un old skateboard. Ci sta bene in questo stile. Quindi vediamo, adesso mi dovrebbe aggiungere uno skate a terra, e vi faccio vedere anche, prima avevo detto del testo, vi faccio vedere anche il testo, aggiungiamo magari pure un segno su questa, su questa porta, no? Per fare una prova. Quindi vediamo cosa ci crea. Ecco qua, fatto. Guardate che spettacolo, ci abbiamo sempre le nostre quattro opzioni. Direi che forse la numero tre è quella che mi piace di più. Qua ci abbiamo sempre una copia, vi ricordo, no? Ogni volta che interveniamo ci ho fatto una copia. Quindi se voglio posso lavorare su questa. Che faccio? Ci vado a lavorare, e qua ci metto per esempio un bel cartello. facciamo qua, e ci scriviamo, facciamo assign saying no skating in the area. Magic fill. Quindi ci abbiamo aggiunto uno skateboard, eppure mo mettiamo un cartello lì sopra che ho scritto qua, non si può usare skateboard. Vabbè, ovviamente sulle scritte videogram fa paura, è il top, il numero uno. Guardate che spettacolo, come è scritto bene, senza errore, soprattutto come è realistico, no? Il cartello sembra veramente un vecchio cartello appiccicato. Vediamo cambiando gli altri, no skating in the area. Questo forse addirittura è ancora meglio. Il terzo è sbagliato. Anzi, questo è ancora meglio. Questo mi piace, ancora più del primo. Mi piace, ci lascio il quarto. Qua potremmo aggiungere, che ne so, un lampione al muro, eccetera. Potete fare quello che volete. Vi ricordo che questo, ovviamente, è una copia. Una volta che potete lavorare sulle vostre immagini, avete veramente uno strumento, no? A disposizione, semplicissimo da utilizzare. Ripeto, queste cose si possono fare. Se non è pratico, si mette con Photoshop e fa tutto. Però questa roba la facciamo dentro iDiagram, veramente con degli strumenti super, super accessibili. Anche questa novità, iDiagram per me si conferma l'app numero uno di AI per le immagini in circolazione. Guido.link slash iDiagram, se volete usare il mio link per iscrivervi, ma non dovete farlo per forza. Se volete, però, è un modo per ringraziarmi. E se non avete mai usato iDiagram e dite, ok Raff, tutto molto figo questo, ma come si usa? Che cos'è? Come le creo le immagini? Allora andatevi a vedere il mio tutorial generale e generico su iDiagram, che vi metto adesso a schermo. Cliccate il link perché iDiagram è una figata.